Questa pomeriggio abbiamo avuto invece già un incontro e quindi siamo in grado di dire come si svolgerà il cronoprogramma. Abbiamo deciso di aprire la piattaforma da lunedì 10 dove ci si può iscrivere e dal 20 maggio iniziano le vaccinazioni all'over 50. E' una notizia perché alla dimostrazione di come si sta lavorando oggi pomeriggio proprio c'è stato un incontro e questi sono stati gli indirizzi e le linee guida che abbiamo dato. Questo è importante perché appena finita questa vaccinazione così come anche ricordato il generale Figliolo a giugno avremo la possibilità di aprire non più secondo il target dell'età cronologica ma apriremo a tutta la popolazione. Questa è la risposta che il generale ha dato nel momento in cui è stata posta la domanda quando apriremo ai livelli essenziali, quando apriremo alle attività produttive. Allora il generale ha ritenuto giusto di non differenziarli perché sono tutti livelli essenziali le attività produttive per cui è nel suo obiettivo aprire proprio a giugno a tutta la popolazione. Grazie a tutti.